E' finita. E' finita! Se Dio vuole. Ma detto questo, oggi è tempo di tirare le somme. Come vedete, non stiamo recitando segnali dal futuro, ma questi sono tutti i voti che ho dato ai ragazzi. Dove oggi, con una tier list, proveremo insieme a voi a riassumere tutti i voti di tutti questi ragazzi. 1.500 mi piace e stasera avrete anche il pacellone dalla più scarsa a livello di voto alla migliore della serie A, a 20 squadre. Detto questo, andiamo immediatamente nella nostra tier list. Eccola qua. Divisa in 5 categorie, Celestiali, Salvi, Quasi Amici, Giuntoli, Viosserva e Allegrizzati. Dove ho riassunto tutti quelli che sono stati i voti dei miei 40 e passa episodi delle pacelle. E diciamo che chi ha avuto una media anche solo superiore al 6,1, perché sapete quanto sono stronzo con i voti, quanto poco vado in abbondanza e quanto sono basso come un professore, li valuterò, Salvi, solo se sono andati dal 6 al 6,1, Quasi Amici, dal 5,8 al 6, Giuntoli, Viosserva, dal 5,5 al 5,8, Allegrizzati. Una roba improponibile. E partiamo da Scesni. Ah, madre di Dio, meno male che partiamo da qualcosa che si può salvare, perché, voglio dire, tech... Voglio dire, come lo possiamo riassumere? In 43 partite dove non le ha giocate tutte, 23 vittorie, 14 pareggi, 6 sconfitte, 68 gol fatti, 34 subiti, tanti clean sheet per essere arrivati solo terzi in campionato. Scesni, se non lo vado a mettere, con la media del 6,11 nella categoria Celestiali... Beh, allora questa categoria, possiamo anche toglierla. Miglior partita? Quella contro l'Inter a San Siro, nonostante il risultato. Peggior partita, ahimè, col Sassuolo, che gli ha distrutto la media. E infatti, lui non è il migliore di tutti quelli che arriveranno. Perin. Non ha giocato molto, quindi forse questo fattore dovrebbe farmi andare ad abbassare di una categoria il monte. 6,06, però appunto, si prende un campione di molte meno gare, dove la migliore, per me, è stata quella con la Lazio in Coppa Italia, 2 a 1, o quella con l'Atalanta, la peggiore, quella col Bologna. Quindi mai una prestazione al di sotto del 5,5, mai sopra il 6,5. Per quanto mi riguarda, Perin, perché siamo, tirchi, lo mettiamo in quasi amici, Pinzoglio, scusami, scusami Scesni, ma io ti metto qui. Perché, scusatemi, si fa una partita, anzi mezzo, tre parate, anche importanti, paragonabili al Prime di Marco Storari in Inter Juventus del 2015. Per chi non l'avesse mai vista, se l'andassi a rivedere, troverete anche il mio commento. Andiamo con i difensori, con una media dei portieri che va appunto sul 6,5, anche perché Pinzoglio è 7,5, l'unica gara presa in esame è proprio quella lì. Difensori centrali, quindi gatti, quindi gatti. Media del 5,92, anche se a impressione non sembrerebbe essere stato un difensore così orribile. La sua prima stagione, quella della consagrazione, perché se l'altra l'ha passata per metà in panchina dovendo guardare un Bonucci in campo, questa l'ha fatta molto più da titolare, quasi tutta, con la linea difensiva composta da lui e Danilo e Bremer, quasi intoccabile. Tanti gol, qualche strafalcione, è una via di mezzo tra salvi e quasi amici. Diciamo che però, parola ai fogli, parola alla sentenza, 5,92 ti metto in quasi amici. Switch per Danilo, leggermente, ma dico leggermente, anche lui, sulla stessa onda. Danilo che si è salvato un po' nelle gare del finale, quella con l'Atalanta ci ha trascinato, ma è stato, spesso, anche più assente del dovuto, perché gli anni cominciano a farsi sentire, ma ricordando le gare negative, di cui una su tutte, anche lui, quella della Lazio, in Coppa Italia, a Roma e tante altre, io sono realista e se ho messo gatti lì, devo essere coerente. Metto anche lui qui, Gleason Bremer, media del 6,23. E spammato in 40 voti, questo vale tantissimo. Non posso far altro che metterlo qui. Tra i due portieri, in mezzo, come se fosse un podio meritocratico, perché ovviamente lui, oltre a parare, ha difeso, ha segnato, ha fatto veramente tanto, tanto, tanto. Miglior partita, quella con la Roma, peggiore, anche lui, quella con la Lazio. Ci sarebbero gli Uisen, ci sarebbero anche i Gialo, con 6,2 entrambi, perché sei più uno a San Siro contro il Milan, l'altro sei più contro il Monza. E allora si switcha tutto in Danielino Rugani, che con 6,14 di media voto, che è un, ma molto, molto alta per aver giocato, lo vado a inserire in salvi, assolutamente sì. È uno di quelli che rinnova, senza particolari problemi, adeguando il suo ingaggio, accettando il fatto di essere una riserva, ma quando chiamato in causa ha risposto, sempre, presente. Ecco, dovesse finire qui, forse questa è una stagione ottimale. Poi ti ricordi, Alexandro, commovente l'addio, con quel 7 e la media sale, a 5,78. Ergo, non ci siamo lo stesso. Non dimentico quell'autoscontro con Bremer, in Juventus, Bologna, primo gol subito della stagione, che ha dato vita alla creatura di Tiago Motta. Giuntoli, vi osserva. Anche se, ovviamente, per Alexandro, al massimo, è il Brasile che può osservarlo. De Sciglio, abbiamo nominato già lo, che è stato fuori per l'infortunio. Lui, che ha avuto uno stesso infortunio, nello stesso momento, rientra e poi sparisce dal campo. Allegrizzato. Media del 4,85. Spoiler, il peggiore di tutti quelli presenti. Timothy Weah, andiamo con gli esterni, o meglio, chiudiamo la categoria dei difensori centrali con una media del 6,12. Che sarà, forse, la categoria migliore dopo i portieri? Vedremo. Andiamo con i laterali. De Sciglio, appunto, l'ho detto, Weah. 5,8. Il Preseason aveva illuso. Le prime sgambate hanno illuso. Poi, sul finale si riaggiusta. Ma proprio per non essere nell'ultima categoria, lo metto qua e ti osserva sì. Una stagione non brillante. Si spera nel riscatto, nella magia, dove la sua miglior partita la vado a trovare lì, contro la Salernitana, in Coppa Italia, dove appunto, una partita dove è subentrato, ha segnato, non c'è mai stato un voto sopra il 7 nella sua stagione. E non c'è mai stato un voto sotto il 5, ma molto spesso tendente al 5, più 5,5. Peggior partita, volendogne trovare una con il Genoa, dove non riesce a crossare, mentre la partita si sta spengendo. Cambiasso! Media del 6,1. E quindi, se devo essere onesto, dovrebbe andare nella categoria salvi. Sarò onesto? È un peccato. È un peccato, è difficile metterlo in quasi amici, impossibile. Sarà su salvi, su celestiali, la scelta... Potrebbe andare in base a un dado. Ce l'ho? Guarda, se esce pari o dispari. Pari, facciamo celestiali. Dispari, facciamo salvi. Pari, celestiali. E allora sì, cambiaso, lo mettiamo qui. Però in fondo, eh. Perché sono stato molto generoso nel 6,1, come Rugani avrei dovuto destinare. Cambiaso però più titolare, più partite giocate al primo anno. Aspettative, sì, ma poi resa effettiva molto alta. Ecco, torniamo subito all'apatia, alla depressione. Cambiaso, 6,1. Kostic, 5,58. Allegrizzato. È uno dei peggiori giocatori per media voto. Imbarazzante. Miglior partita, quella col Cagliari, per aver messo due cross pennellati. Non so, tra l'altro, se furono tutti e due i suoi, ma la peggiore ce ne fosse solo una. L'ho voluta trovare in Salernitana, Juventus e Juventus-Salernitana. Proprio per farvi capire che anche dove serviva fare il minimo contro l'ultima in classifica, è sempre stato uno dei peggiori. Madre di Dio. Chiudiamo con Eiling, 5,8. Giuntoliti osserva. Non è una stagione sufficiente perché Eiling, oltre a trovare poco spazio, sicuramente questo lo ha penalizzato. Non ha reso tantissimo quando è stato coinvolto. Ci sono stati dei gol, infatti la sua miglior partita è quella con la Salernitana, ma quella peggiore la reputo quella in casa contro l'Udinese, tra le tante. Lo metto lì con la speranza che questo giocatore, in questa categoria, possa essere adocchiato in futuro, non per forza per farci soldi, ma per poterci pensare un attimino. Che forse cederlo oggi non ti dà economicamente quello che ci potresti ottenere, se proprio hai intenzione di cederlo, perché il giocatore si è svalutato. Categoria degli esterni, 5,5. Sarà la peggiore? Centrocampo. Manuello Catelli, perché non c'è Sekulov con il 4,85, messo esterno in Lazio-Juventus, c'è Locatelli, 5,6. Ti salvi rispetto a Kostic, sì, ma sei sempre allegrizzato. 5,6 in una media di tante partite dove abbiamo anche vinto e lo davo nella prima parte di stagione il suo spirito, la sua voglia di battagliare, non può compensarsi. Gli ho dato solo un 7 nella partita contro il Milan, mai sopra il 6,5 e sempre, perennemente, con voti scadenti. La sua peggior partita per trovargliene una, Bologna, Juventus-Bologna, anche per lui. No, veramente è stata una partita quella che già ha fatto capire che ciò di buono fatto alla prima non poteva durare due partite. E da lì, infatti, c'è già spento quell'entusiasmo che era presente. Vi ricordate quando si nominava Magnanelli? Mamma mia, il lavoro su Locatelli. Nicolussi, 6,09. Ha giocato poco, questo sicuramente va detto. Quindi, metterlo in salvi, uno che ha giocato anche meno di Rugani, non posso. Io lo metto in quasi amici. Lo metto in quasi amici perché comunque, sì, ora sarei un folle a metterlo nella categoria salvi. Se ho messo Gatti e Danilo in questa zona qua. Discutibile, potete dirmi la vostra qua sotto nei commenti. Fagioli, anche lui per lo scarso minutaggio, la sua media voto è 6,01. Troppo poco presente, tanto quanto letteralmente Nicolussi. La sua peggior partita, quella con il Bologna, appunto, una delle poche che ha giocato nella prima parte di stagione. Ha servito letteralmente due assist in queste poche partite, quindi è stato anche più decisivo. Nicolussi, uno contro il Monza. Fagioli lo mettiamo qui. E quasi amici, ovviamente, con l'asterisco. Che magari avressimo potuto goderne di più. Adrienne, rabbio, 5.87. Allora, qui faccio una fatica immensa, ma ok, giunto lì vi osserva. Il nome ci sta, il dialogo c'è, il rinnovo è possibile. Ma comunque questa stagione, da che doveva essere stato uno dell'anno scorso, tra i migliori, devo far notare l'abbassamento totale. Certo è stato presente qualche volta col Monza, per esempio, no? Ricordiamo la partita con gol e assist, ma tolta quella. Quante ci ha preso sulle spalle. A volte si è sentita la sua assenza. Ricordo la partita a Marassi-Giano a Juve, quando a centrocampo giocava Miretti al suo posto. Ma, beh, 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 c'è stato anche un votaccio. Ricordo quello contro il Sassuolo. Un paracaro a volte che camminava e alle volte proprio giocatore da mani in tasca. Fatto giocare anche sempre in quella mediana a tre, dove l'unico modo per poter pensare il calcio è mettere tre difensori e due buzzi, come Locatelli e Rabiot per certi punti di vista. Dimostrazione che in realtà col Monza ti sono bastati Alcarazze e Fagioli. Alcarazze non c'è, anche per lui la media sarebbe stata del 5,90. Switcho su Miretti. Sarò brutale, ma i numeri dicono questo. 5,57 di media. Sì, abbiamo trovato uno peggiore di Filippo Kostic. Di 0,01. Eh, vai lì. Vai lì perché comunque ti ha allegrizzato nel bene o nel male. Quello che era il primo Miretti della scorsa stagione si è un po' spento, ma diciamo che la sua aura l'ha toccata proprio nel momento in cui per la prima volta questo giocatore si instaurava per essere uno che tra le linee si muoveva splendidamente. Sfortunato il ragazzo, eh, che ha trovato i gol che tanto aspettava, ma comunque diciamo tranquillamente che sono state molto negative le sue prestazioni. Weston, McKennie, media voto, 6,09. Sembra cattiva, sembra molto bassa, ma in realtà c'è quella parte finale di stagione dove ci ha mollato. Oltre le aspettative, assolutamente, media voto leggermente più bassa di Cambiaso. E allora McKennie lo mettiamo tra i primi dei salvi. Scavalchiamo anche i rugani, però la categoria ovviamente positiva piange, giusto così. Sì, poi sarei stato un po' incoerente a dire che poi mi sono sfogato per tutto questo tempo per poi mettere robe che non corrispondono con la realtà. C'è il signor Nongia qui, non c'è Sekulov, c'è Nongia, eh, che ti devo dire. Giuntoli ti osserva perché ha fatto una partita ora, in una partita... No, sei solo De Sciglio, giustificabile a finire in quella categoria. Avendo giocato a una, male, poi avendo fatto altre tre presenze, quella ti metto lì. Pogba, ovviamente allegrizzato, non c'è la categoria dopato, ingenuo, pesante, mancante tutto, dai. La media sarebbe due partite, 6, 6,2 e poi lo 0, compensa in un 4,1 che distrugge la media. Bene, centrocampisti, no, meglio degli esterni. 5,8, tirati su veramente da Weston McKennie, eh, con, insomma, forse non quei bassi di Costic e De Sciglio che hanno contribuito a salvare un po' tutto. Mo' gli attaccanti. Federico Chiesa è la cosa più strana che io vi potrò dire. È il mio giocatore con la media voto più alta raccolta nelle pagelle. 6,294, 6,3. Arrotondato meglio di Bremer. Com'è possibile sta cosa? Sai perché? Perché l'impressione che tu hai quando gioca la Juve e quando vedi Federico Chiesa con la Juventus FC 2023-2024 giocare a calcio cambia tutto il concetto, cambia tutta la percezione di quello che è il gioco del calcio. Un gioco dove Chiesa fa il massimo, fa il possibile, eppure in una stagione dove i gol fatti sono 1,5 a partita pur non avendo raggiunto la doppia cifra in campionato ma solo in stagione con i 9 gol in campionato e se non sbaglio 1 in Coppa Italia, io lo metto in salvo. Perché comunque Chiesa, ricordiamo, sì, avrà aspettative altissime. Per molti sarà da quasi amici, ok, ma ha sempre quella roba che proviene da quell'infortunio che comunque anche certi campioni li ha fatti veramente stare in stand-by per tanto tempo. C'è quella palese ed enorme, quell'alibi, quell'alibi che ritrova in allegri tutto questo discorso. Dusan Blaovic, media del 6, spaccata. E anche qui ti vorrebbe da dire, come è possibile uno che ha fatto 20 gol in una stagione con un tiranno? Ali gli ha messo 6. Perché volete che vi dica tutti i voti di Dusan? 7,5, 6,5, 5,5, 8, 4,5, 6,5,5, 5,5, 5,5, 5,85, 7,4,85, 5,85, 5,25, 7,6,5, 7,25, 6,8,7,5, 7,5, 7,5, 4,5, 6,25, 8,4,5, 4,5, 4,5, 4,25, 7,25, 5,5, 4,5, 6,5, 5,25, 5,5, 5,5, meno 8, 4,85. La media fa 6, incredibile. Quindi, devo essere coerente? Lo metto in salvo, non posso comunque abbassarlo sui quasi amici, però è un discorso molto simile al Danilo. C'è stato, a volte è mancato, lo metto lì. Ripeto, c'è qualcosa che giustifica tutto questo. Mettiamo prima Milik, poi Ken, poi per ultimo Ilditz. Milik, media voto, ragazzi. Ah, media voto di Milik, 5,7. Eh oh, c'è lo 0 contro l'Empoli, giunto lì, ti osserva. Ci sarà da capire cosa fare con questo ragazzo, che dal punto di vista della media minuti gol, non so se è meglio di Blaubic, non credo, perché comunque le sue partite le ha giocate, però non tanto, essendoci stato un Moise Ken che ha tolto molto spazio, in quel primo momento dove giocava solo lui, quindi lo metto lì con un Ken che... Non lo metto negli allegrizzati, perché comunque ha avuto un buco nella stagione dove è mancato tanto. La sua media voto è 5,7. Quindi sono coerente, è la stessa media voto quasi di UEA, quindi va proprio lì. Un po' lontano però, tra gli allegrizzati, 0 gol. Prestazione più brutta. L'ultima con la Salleritana, migliore contro il Verona, dove in realtà, per un momento in cui la Juventus le vinceva, lui era presente. Ildiz, qui, ovviamente, stessa roba di Chiesa e Blaubic, se no sarei stupido, davvero. Lo metto qua. Celestiale, no, solo perché, a differenza, mi pensavo io che è una categoria a parte, Cesc di Gambiasso e Bremer ha avuto un minutaggio più basso. Quindi non posso, per questo discorso, poter dire che è stato sì migliore di Chiesa e Blaubic per quello che ha giocato, ma con molti meno minuti, avendo fatto molto meglio, non ti posso regalare quella potenzione lì. Quindi si salvano letteralmente in 9 e falliscono in 12, per non contare i cerri che ci sono stati, 5,5 la partita contro... E insomma, ragazzi, che vi devo dire? È stata un viaggio questa avventura, mi raccomando, i mi piace per il pagellone dove partiremo dalla squadra con il voto più basso a quella più alto, piena di hype e poi, con calma, tutti i video. Tanta calcio, le finali, e la prossima settimana, perché l'Atalanta può ancora sorpassare la Juventus, la reazione alla classifica finale di Serie A. Bella.